In questo territorio chiunque abbia più di vent'anni puzza di Fiat. Puzzare di Fiat significa riconoscere il sudore che porta a casa alla fine del turno un padre, una madre, un fratello. Era un sudore diverso a seconda che tornassero dalla verniciatura o dalla lastroferratura, dalla finizione o dalla qualità. Voci scomparse. Oggi la catena di montaggio non c'è più, si lavora sulla linea. C'è il 4.0. Il compagno di lavoro in fabbrica è un robot che è in squadra e dialoga con te attraverso uno smartwatch. Il mondo corre sempre più in fretta. Alla sera non c'è più quello che esisteva quando ci siamo svegliati al mattino. Nessuno sa cosa comporterà la nascita di Stellantis. I meno ottimisti dicono che non ci sarà più la puzza di Fiat e non perché a fine turno si tornerà a casa profumati, ma perché l'automotive non tornerà più a occupare 12.000 persone in questo territorio come era negli anni 70 e 80. Ci sono figli nati con la promozione a caposquadra, non ci saranno più. Un'industria è l'Unione degli Industriali del Lazio, potentissima, seconda solo ad Asso Lombarda. Insieme possono decretare il presidente nazionale degli industriali. In queste ore ha deciso che per la prima volta a guidare l'asse Cassino Gaeta non ci sarà un uomo dell'automotive. Ha chiamato Francesco Borgomeo, l'uomo che ha inventato l'economia circolare sul territorio. Il nuovo sviluppo verrà da lì nei prossimi anni, lì verranno creati i posti di lavoro, dalla creazione di nuovi prodotti attraverso il recupero dei materiali che altri buttano. È un segnale chiaro, l'arrivo di Borgomeo è un segnale. Puzzeremo in modo diverso. L'importante è puzzare senza ricevuta di ritorno.